Ci scusiamo per il cambiamento di data, ci sono stati un po' di problemi. Noi abbiamo partecipato da oggi e abbiamo visto il congiere con un'altra iniziativa che oggi sono partecipato a parte dei nostri iscritti. Poco lì, penso, è di essere qui. Non c'è domanda per i nostri suoi motivi, non c'è stato un amico che sarà detto il libro prima. Quindi io comincio a parlare di direttamente al libro, lascio direttamente al libro il compito di farlo. Prima di partire, io vorrei solo dire che, come è libera, due settimane fa abbiamo presentato, abbiamo fatto un'iniziativa congiunto con le Gambiente, sul caso della Parcrop. Le Gambiente ha fatto una diffida di questi giorni, mentre partire il primo saltato, su una relazione della regalissima del Santiano, che è il punto di quanto non credo che vedremo la costruzione dell'impianto. siccome c'è un parlo di responsabilità di viaggio, la Regione come di Aranzano, in senso che noi Aranzano diciamo che abbiamo notato e la Regione lo doveva approvare. La Regione dice che non sono arrivata tutta la documentazione che abbiamo richiesto, quindi sono passati cinque anni, la politica su una riserva non viene approvata, e quindi c'è un rischio concreto, anzi, c'è la certezza che se non viene adottata si realizza l'impianto parco. Quindi le Gambiente hanno presentato questa diffida a comune ragione, minacciando tutto il ricorso al Taro, che dovrebbe partire da un pari giorni, perché stavano trascate le indici giorni che erano stati abitati. Come riprendeci abbiamo fatto una risposta denuncia alla Parola della Repubblica su Antonio Sorge, il funzionario della Regione, che ha presenuto il capo di intercomitatori da cui è partito, ci ha dato il via materialmente, scusa dei giorni di parole, al progetto. Siccome abbiamo raccolto tutta una serie di membri per cui quel funzionario non poteva proprio presiedere quel comitato per una serie di rapporti di affari che avevano comunque con la PowerCrop, e quindi abbiamo presentato questa lucia sperando che una regione di accauta relativa sospende quel parere positivo e quindi abbiamo dato la comitata via la realizzazione anche in pianto. Io ho passato a costruire che vorremmo prendere una bocca di clienti e professioniamo tutte le tue iniziative che non mi sono spiegate in più di dettagli. Questo è una parola direttamente afflato per la presentazione che è proprio. Guardi se qualcuno vuole fare le donate. non mi ha sentito perché c'ho una risposta con libera Abruzzo con tutti voi e l'impegno come quando si contrae un debito che ti ripagano nelle forme e nelle modalità che voi deciderete. Nella sostanza sono a vostra disposizione. ovviamente voi che siete stati così dirigenti cortesi che comunque vi siete qui nonostante l'anticipo dell'ultima ora siete eventualmente semplici soldati. era l'autore dell'anno scorso e come ne capita ormai almeno un paio di volte l'anno che è scritto a libera lo sa bene ci ritroviamo per delle sezioni di formazione in questo caso eravamo a Villa Vecchia a Monteconta, sui castelli romani. Villa Vecchia è un bel albergo confiscato con le leggende che in ogni camera ci fossero telecamere in cui, diciamo, a spiare la vita privata dei clienti. Parte di queste leggende più, diciamo, da libera è che l'impianto satellitare che distribuiva le nazionali Sky e le altre televisioni satellitari all'interno dell'interno dell'interno era pirata. Per risparmiare la cosca l'andrina calabrese deviava un segnale da Valencia e questo vuol dire che ogni volta che ero a Valencia dicevo a Valeria che cambiavano canale in tutte le stanze dell'amore questo in quella in quella occasione andando dalla chiesa un po' appunto, non so nel senso quello del tempo si avvicinano ma dice ma come è possibile? perché tu non hai scritto niente su quello e io c'era l'imbalazzato poi mi ha emozionato e ho detto no, non è vero perché io ci ho trovato diverse volte e poi ci sono riusciti ed era vero cominciavo a scrivere qualche pagina ma passavo un po' di tempo ci riprovavo e devo dire che invece questa volta come si dice galeotto sono nato dalla chiesa perché sono riuscito a completare l'opera che adesso trovate nella versione diciamo, stampata pubblicata dalla casa editrice Melanto di Milano che è la casa editrice della moglie di Nando dalla chiesa di Milano la prima presentazione è venuta la settimana scorsa il 3 avrile il 33esimo anniversario del municipio di Rosario di Salvo e di Vimpate appunto a Palermo e l'abbiamo presentata alla botella di Libera in Piazza Politeana Piazza Politeana piazza centrale di Palermo dove il 2 maggio del 1982 si celebravano alla presenza del capo dell'USSAL e delle massime autorità e della Piazza Politeana non è facile non lo dico per esagerare a Palermo è stato abbastanza complicato mi ha aiutato molto Nino di Matteo il magistrato della direzione distrittuale antimafia di Palermo che si è prestato molto generosamente a presentare il libro e che mi ha affettuosamente confortato si è presentato lui aveva ricevuto il file in anticipo prima della stampa visto che il libro uscita la settimana scorsa si era stampato tutto e si è presentato in questo blocco di carta con tutti i bigliettini dove si era annutato per cosa mi ha fatto molto piacere e ha fatto un po' una 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 presentazione perché se è stato difficile scrivere questo racconto altrettanto difficile che parlare allora spero giudicare tipo leggendo di essere riuscito almeno nel restituire una storia diversa perché di di biografie su Piola Torre le scorse di libri sul impegno politico l'ultimo uscito pochi mesi fa Piola Torre il legislatore di Monti Mafia anche lì ne sono stati scritti i testi che analizzano il suo impegno politico la sua capire politica come parlamentare e come dirigente scrittacale e come dirigente dell'anno partito comunista e io personalmente dal punto di vista biografico della biografia politica non mi daremo di avere nulla da aggiungere a quello anche dal punto di vista politico non ero non solo in possesso di particolari rilevanti anche perché una parte importante della sua carriera politica si svolta quando io o non ero coronato ero un ragazzino con il grado di giudicare e di assorbire e questo era il motivo per cui non trovavo come si dice la chiara e giusta gli argomenti anche perché sapevo che sapevo che non dovevo correre il rischio di residire un racconto personale di quelli che riguardano il buco della storia perché per quanto riguarda quegli aspetti non li leggerete mai se magari avete un piacere di stare insieme che darsi che le chiacchie cadano su questi aspetti della vita familiare erano tra amici dovevo anche raccontare episodi ma scrivere un libro non mi sembrava non mi sembrava il caso e questo era giusto alla fine se avete la pazienza appunto di leggerlo ho trovato una formula che mi sembrava diciamo idonea che è quello di alternare brevi cenni brevi cenni biografici e politici con la mia testimonianza raccontando un po' come sono stato cresciuto educato o in parte condiviso allora e cosa è successo questa diciamo la seconda parte la parte finale dedicata ai trent'anni successivi perché il libro si ferma nel 2012 quando ricorreva il trentennale dell'omicidio dell'omicidio la togola di salvo visto che stiamo dicendo mi racconto quelle cose che mi ricordo mi ricordo mio fratello Filippo circa sei anni più grande di me quando eravamo a Palermo noi abbiamo vissuto a Palermo di 1969 io sono del 56 e del 50 mio fratello ragazzo aveva un carissimo amico Alessandro è diventato un brillante scienziato chimico è disgraziatamente morto giovane neanche trent'anni e avevano diverse passioni tra cui come tutti i ragazzi ragazzi di 10 anni tra cui quelli per esempio di andare in un paese di un certo una delle belle l'aggettivo ovviamente paradossale speculazioni di inizio del sacco di Palermo ha riguardato un'area che si chiama che si chiama che si chiama la Pia Sperlinga e quest'area che ospitava Brumenti oggi ospita Peppa Dazzoni è un giardino con una grande vasca che a mia memoria ha distanza da vuota una vasca che sarà lunga quanto nessuno ha detto il raccetto e l'estate quello diventava il paese che non c'erano all'estate perché i figli andavano con i figli quelli di grano verde dove facevano un cappietto a scatola delle scarpe e catturavano le ricertole proprio le impivano questo scatola delle scarpe e poi a sera liberavano le ricertole che poi quel giorno tornavano le facevano questa passione degli animali arriva anche al punto che un bel giorno decidono di ordinare un canimano all'epoca forse quelli che hanno un'umanità se lo ricordano c'era una famosa traduzione delle visita un amico degli animali con l'angelo lombardi un personaggio insomma si sente di studio era un uomo di colore che era vestito tipo l'assistente di mandrego che con una 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 che era vestito con una lombardi che era una che raccontava le bellezze degli animali esotici Allo stesso tempo il signor Lombardi organizzava safari per andare a ammazzare. Il figlio degli anni sessanta costruzione si trovava alla stazione termine di acquario, acquario di questo taglio, anche delle specie storie, il caccio di tutta andava a fuoco con le mani linguistiche che è stato lui stesso per incassare l'assicurazione perché nessuno c'è andato. E tra le altre fosse Angelo Lombardi faceva import-export di specie di sottra, quelle che da un bel po' di anni sono vedate secondo le verità delle relazioni di te. Arriva questo Caimano, il nonno è la casa dove siamo cresciuti da Palermo, anche lì poi lo ritroverete, il nonno, i racconti sulla famiglia materna, aveva fatto costruire in questa rivetta un piccolo polvaio perché i nipotivi dovevano bere gli uova crescono. I nipotivi crescono, il nonno muore, la nonna smantella. Però rimaneva questa parte del polvaio dove viene allestita la zona dove ospitare il Caimano. La nonna ufficialmente sapeva che era un iguana, un ramano, un grande ramano. Adesso non lo so perché ero abbastanza giovane, non so se la nonna si rende conto che non era un iguana. o difficoltà di alimentazione perché questo Caimano non ce la pesce tanto, il fatto sta che Alessandro decide di portarsi alla casa e lo mette dentro la mascarbana. Il giorno dopo la sorella di Alessandro scrive in una lettera al giornale Lora di Parelli, nel quotidiano del Comedicino, adesso non esiste più, come si alleva un animale a casa. Passa poco, un giorno, e quelli dei lozoni di parelli non si presentano. La sorella di Alessandro è il Chiesa Stella, la moglie in andata alla chiesa del giornale. Perché in quell'epoca il generale Carlo Roberto era tornato in Sicilia dove esserci stato ai tempi di Placido Rizzotto, alla fine degli anni Quaranta, a metà degli anni Sessanta, ritorno in Sicilia come comandante della legione dei Carabinieri della Sicilia nord-occidentale. E la sorella più piccola di Nando era compagna di Panko al liceo di Emilia Cistelli. E alle volte, in questo caso, fu la sorella di Nando, perché questo fecesse che Nando, con un'oppe Emilia, si innamorava e non si sposava. E quindi, diciamo, c'è un intreccio anche di storie personali, inoltre, che è l'impegno tra la famiglia della Chiesa e la famiglia da Torre. E quindi questo libro comincia quando un padre compie 18 anni. Ho cominciato prima, diciamo, il grosso, quando compie 18 anni. Questo libro comincia quando un padre era quattro anni. Facciamo un forse esempio. L'inizio, l'inizio. Perché? Perché con un racconto delle sue origini nasce da una famiglia di contadini poveri della periferia di Paretmo, al tarrello di Baida, nel 1927, a una vigilia di Natale. mio padre, a circa quattro anni, accompagnava, spesso succedeva mio nonno, suo padre, nei piccoli lavori di manutenzione di quello che lo chiamavano giardini, in un piccolo apprezzamento, 1524 di allumento, e in quell'occasione, rivolgendosi a mio nonno, a mio figlio di quello che diceva papà, io vorrei andare a scuola. Lì per lì la reazione di nonno non fu, diciamo, quello che è proprio delle più disponibili. e sa come, tu sei figlio di mio nonno, mio padre faceva il contadino, devo fare il contadino. E la discussione che mi scendeva, io non torno a casa per contarla, la sua moglie, la mia moglie, tutta la storia, e per fortuna che in ogni famiglia c'era meno una moglie. perché nonna Angela, l'alfabetta, era, diciamo, complice di tutto il rischio, perché sin da qui aveva ripetitato un rivolto per studiare, che non poteva fare una strada di Stato. E quindi si mettono d'accordo, si va bene, va a scuola, a patto, però, le spese, ci pensi a mia madre, a mia mamma, e comunque io, tutte le mattine, prima di andare a scuola, pulisci la stalla. c'era una vacca. Al di là, diciamo, della bellezza di tutto questo, si evince come, seppure a 4-5 anni, mio padre, avesse, diciamo, inizializzato le istanze di progresso, ovvero che non c'è una condizione data. Si può nascere disgraziati, ma non è detto che si debbano dire disgraziati. Ovviamente parliamo di un periodo difficile, perché a cavallo delle due guerre, dell'eurofascismo, l'Italia ricorre con la monarchia, e i braccianti poveri erano proprio il gradino più basso della scala sociale. è, all'epoca, l'unico modo per cercare di risalire quella scala della scuola sociale. Con tutti i limiti del caso, come sapete, la scuola media non è aperta a tutti. La scelta fu l'abbiamento professionale, quindi le scuole tecniche che non davano diritto all'ingresso all'università. mio padre fa gli esami d'ambientistico e lo scientifico che si iscrive all'ingegnerità. Contemporaneamente comincia a occuparsi di politica. Grazie a, mi ricorda, l'insegnante di filosofia del liceo, che gli aveva aperto gli occhi e gli aveva fatto capire che quello che gli aveva sperimentato su se stesso, ribellarsi a una condizione di subalternità, di rassallaggio, di miseria, fosse possibile farlo con successo da questo periodo individuale anche su quello collettivo. In quella borgata lui aveva visto, era cresciuto, conosceva bene le condizioni dell'Arcian di Polo. E quindi, dopo una breve esperienza con la sezione universitaria del Partito Comunista, dove racconta che si chiacchierava tanto e non si faceva niente, decide di presentarsi spontaneamente alla Fede del Terra, l'organizzazione dei contadini. E si offre volta. E da lì comincia. Da lì comincia, e nel giro di qualche anno, diventa il genere di quelle organizzazioni, il genere del Partito Comunista, è uno degli animatori della grande europea della battaglia per la terra, a seguito dei decreti 1, che subito dopo la fine della guerra, col Comunicato di Operazione Nazionale, era il Ministro dell'Agricoltura che introdusse la riconda. L'esperienza straordinaria. In quegli anni mio padre incontra mia madre, un po' oggi. Giuseppina Zarco, questo è il nome della mia madre per lui, era figlia di una famiglia aristocratica, seppur di, come si dice in giro, che avevamo detto, cioè non quella che mi dava pazza, perché mio nonno non era il primo genito. Però questo nome è una persona un po' particolare, medico, ufficiale dell'esercito, repubblicano comunista, quindi era un barone del suo corso. L'amico, il nuovo dirigente comunista siciliano, la casa nostra di Valero, ne ha ospitati parecchi, forse uno qui dice qualcosa, o Piero Colagiani, il comandante barbato, che alla testa delle brigate partigiane liberato Torino nel 1915. questo straordinario personaggio, il diritto della Sicilia, trascorse a casa nostra, un uomo insieme alla famiglia, ai figli, giovani, Luigi, dove troveremo un po' più avanti, un uomo, un bel terreno, non ancora non mi ha dato, non mi ricordo. Era quello che significò molto, il rapporto. si incontra mia madre, si sposa, fanno un, finanziare da un uomo, un viaggio di morse a Cali, e viene interrotto dopo tre giorni, perché, l'allora segretario della federazione del PC di Palermo, Pancrazio De Pasquale, lo richiama, io, abbiamo cominciato la mobilitazione. C'erano stati da poco i tragici fatti di Melissa, alcuni parcianti erano stati uccisi, ma, come si diceva all'epoca, dalla polizia di Sheba, non ho visto niente. E quindi, archiviato rapidamente il matrimonio, il viaggio di nozze, comincia l'epopea di questa giovane coppia. Il mio fratello nasce nel novembre del 1950, viene concepito quindi, se la matematica non è in un'opinione, all'inizio della primavera, e molto probabilmente è stato concepito in uno di quei figli, in uno di quei casi di Montalucone, dove, spesso, mia madre e mio padre trascorrevano la notte, quando giravano per i paesi che eravano lì dalla provincia di Palermo, per le riunioni di preparazione dell'occupazione. poche settimane dopo, mentre si svolgevano belle manifestazioni dove pacificamente si occupavano e si seminavano le terre incolte, mentre il ricorso da queste manifestazioni limitate da migliaia e migliaia di donne, di uomini, bandiere del Partito Comunista, Bandiere della Democrazia Cristiana. Mio padre viene arrestato con una busta di dettato a omicidio nei confronti di un ufficiale capitano di polizia viene, in un esergevo, tradotto a Luce Arbone il carcere bormonico di Palermo dove trascorre la 19-18 desi. Prima di essere scarcerato per perché il fatto non era mai accaduto. E da lì comincia la, diciamo, la seconda parte. candidato ed eletto al Consiglio Comunale di Palermo comincia la sua battaglia contro il Sacco, contro Lima, Giova, Ciancinino che in quel momento stavano, diciamo, alla testa di quel processo di trasformazione del sistema di potere siciliano che vede via via uscire di scena alcuni dei protagonisti liberali, monarchici, fascisti e l'ingresso della democrazia cristiana in quel patto definito lavoro, un progettivo preferito con le mani. Giungiamo rapidamente alla fine degli anni 50 quando mio padre, segretario della Camera del Lavoro diventa segretario regionale della CGL in Sicilia nel 1960 e comincia la battaglia per lo sviluppo della Sicilia e dopo due anni eletto all'Assemblea regionale siciliana lascia la segretaria regionale della CGL e viene eletto segretario regionale del Partito Comunizio. All'Assemblea regionale siciliana insieme a un patto per lo sviluppo l'altro filone della sua iniziativa e la battaglia per la fine attuazione dello statuto autonomistico. Per mio padre per coloro i quali conoscevano la stessa cantaglia dello statuto dell'autonomia siciliana era il più straordinario strumento di partecipazione dei cittadini alle sorti della poverità. statuto che stentava di essere applicato a pieno e che poi come da volta a casa nella storia si è ridotto ad essere uno strumento di rivendicazione nei confronti dell'Ussano Centrale. in quella concessione subalterna assistenzialista della democrazia ma si diceva una forma di degenerazione della stessa quando viene meno la propria capacità attiva nella cittadinanza di partecipare ai processi decisionali in maniera responsabile. nel 1967 bisogna dire che sotto la sua direzione il partito comunista si arriva in realtà con il rivio siciliano va avanti e tocca anche punte successi impensabili che in un certo momento pone la Sicilia alla vanguardia per il suo artico con i risultati ottenuti. Elezioni regionali del 1967 il PC finisce una grave pressione perde due punti mio padre disse niente e dopo un breve periodo come segretario della federazione di Palermo chiede al partito di venire a Roma e quindi lui un po' prima di noi noi subito dopo tutti i legati diciamo allo scolastico mamma ha ripetito che terminassi io le scuole mie e mio fratello venisse prima di trasferirci a Roma e nel 1969 la famiglia si riunisce una madre all'epoca ricopre il ruolo prima di responsabile della sezione milionare poi responsabile della sezione agraria e nel 1971 da dove viene detto il Parlamento e lì insieme al senatore Nicola Ciccola autore di un'altra delle leggi molto innovative nel campo dell'agricoltura c'è quella della riforma dei parti agrari dalla mezza un fatto diciamo di profonda informazione dell'economia agraria di un paese che ancora dall'agricoltura trovava una parte non secondaria del suo prodotto interno portata porta quindi la la sua esperienza siciliana a livello nazionale come pure e tra i organizzatori del 1970 una straordinaria manifestazione a reggio calabria a reggio dei motivi fascisti che consente è un'inversione di rotta per il paese democratico reggio era una città perduta Ciccio Franco non soltanto questi due mantengono la memoria questo tribune fascinista che guidava la rivolta di reggio era in in fase ormai attuativa il passaggio del capoluogo regionale da reggio dalle caranzate questa ha alimentato quella rivolta popolare strumentalizzata dell'artibile dall'est in particolare dal movimento sociale italiana e lui con l'organizzazione di questa manifestazione rimette reggio sulla via democratica il nostro comienzo di dietro di grado con una grande partecipazione di loro nel 1976 subentra a Geronimo comunicaus storico dirigente del partito comunista siciliano della commissione antimafia che termina i suoi lavori nel 1976 quella commissione antimafia per la prima volta mette a fuoco i rapporti tra mafia politica ma l'allora presidente carlaro non inteneva che la relazione della commissione dovesse entrare nel merito e nel dettaglio anche perché i rapporti tra mafia e politica interessavano principalmente l'allora principale partito di governo la democrazia cristiana di cui carlaro era in espressione e dopo che la commissione comunque aveva votato all'umanità una serie di risoluzioni per attiva al fatto della commissione parlamentare di continuare i suoi lavori per le successive legislature cosa che non appena per quella successiva ma poi riprese per quella subito dopo e in più la necessità di dotarsi di un'assumentazione legislativa efficace ma proprio quella questione dei rapporti tra mafia e politica in particolare tra la mafia principale partito di governo spinse mio padre e uno dei suoi collaboratori nella commissione antimafia l'onorevole Cesare Terranova un magistrato eletto nelle liste del partito comunista come indipendente scherzero da relazioni un documento che è stato poi pubblicato da poco che vi consiglio sapete voi dell'anno a rileggere perché sembra che 40 anni si sono trascorsi con l'anno molte di quelle cose che sono scritte lì chi 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 e perché una serie di allegati di relazioni per dirvi un po' come adesso al di là del partito comunista non è come funzionava l'attività senza senza l'impianto e guardare avanti siamo in una fase in cui tutti lamentiamo le difficoltà della politica no? e delle forze organizzate della politica che si chiamano partiti cosiddetti interventi bene per quell'occasione per quella relazione di minoranza una parte significativa della documentazione che consentì di fare novi cognomi e di descrivere nel dettaglio l'intreccio tra politica e affari e affari furono una serie di relazioni prodotte dalle generazioni provinciali del partito comunista che nel loro specifico tracciavano proprio raccontavano un po' come fate voi con l'esposto che vi ha appena raccontato e devono insieme i pezzi rendendo evidente qual era la natura degli intrecci quali erano gli interessi principalmente economici ma anche politici cioè del controllo del processo decisionale degli intrecci a livello comunale e a livello comunale con le due diciamo preiezioni a livello nazionale in quella relazione di minoranza prendendo spunto dai procedimenti di confino ad ero sottoposti mafiosi si delinea anche il percorso di penetrazione della mafia è ancora una volta abbiamo dovuto aspettare che il nord omertoso perché fatevi vedere da chi è stato riproverato di appartenere a un popolo omertoso per definizione siciliani è stato visto vedere che questa caratteristica dell'omertano non ha un comitato geografico perché il nuovo sviluppato culturalmente avanzato attento per decenni ha girato la testa dall'altra parte e ha dovuto non vedere niente sancio non ho visto niente chi? la mafia non esiste la cronaca la cronaca diciamo biografica si conclude poco dopo si conclude poco dopo perché nel 1981 mio padre mi chiede al partito di poter ritornare in Sicilia perché in Sicilia era in atto un attacco senza precedenti nei confronti della democrazia perché tu mettermi insieme un po' i pezzetti negli anni 70 l'Italia ha vissuto una stagione straordinaria con il bene e il bene negli anni 70 come è ricordate che si inaugurano con forse la più importante conquista del movimento democratico dell'autore che ho saputo ed è anche il decennio del movimento sud del pezzo a questo afflato di progresso si risponde con quella tragica stagione del terrorismo alla quale le le forze politiche principali rispondono con la strategia del conflitto storico del movimento e Keringuer sono convinti che si può uscire da quella fase con una svolta locale, e cioè svolcando il meccanismo che non aveva consentito fino a quel momento il Partito Comunista di assumere responsabilità di governo nazionale. Il Partito Comunista era il governo di molte regioni, i punti comuni, ma per gli equilibri geopolitici globali, come sapete, al Partito Comunista non era consentito, anche a fronte di straordinari successi elettorali con quelli della metà degli anni 70 di partecipare al governo. Moro decide di rompere e incontra Pericurio. Ma all'indomani praticamente Moro viene trapito e ucciso. I siciliani sono una razza particolare, e la Sicilia è stata un laboratorio, come lo era stato all'epoca delle lotte agrarie, come lo era stato per lo statuto autonomista in Italia. Anche in questo caso in Sicilia si cerca di prendere le fila di quel discorso politico, e protagonista di tutto ciò il gruppo dirigente del ministro, che proprio alla fine degli anni 70, la seconda metà degli anni 70, ci sono ceni anche in quella relazione di ignoranzi tra commissioni antimafia, denuncia una parte importante della democrazia cristiana, denuncia proprio del sistema di potere, come in uso portato. Sono rapporti tra la direzione nazionale del Partito e della democrazia cristiana dove si denunciarono. E su questa volta l'allora Presidente della Regione, il Santimantarella, decide di mettere in pratica quella strategia di disimpegno. Per Santimantarella viene ucciso il giorno dell'epicamia del 1980. Mio padre chiede di tornare in Sicilia. Non è stata un'operazione facile, il Partito di tornare in Sicilia. L'allora responsabile dell'organizzazione, Giorgio Napolitano, era una persona imparata che era il mio consultorio. E all'inizio dice Dio, lascia la vita, non ci sono le condizioni. Ma la cosa invece nel giro di qualche mese cambia e il gradimento di mio padre era classificato come migliorista. La corrente migliorista era una corrente, per quanto succederebbe la testa del partito migliorista. D'Amento, Tufanino, Giorgio Napolitano, Giorgio. Lui non mi ha mai stato un'operazione. Non lo diceva, è scherzo, sì. Ed era quindi, perché Dio è un uomo inese. Come uno che tornava in Sicilia, ci abbiamo bisogno di uno che venga al centro del partito, si sentivano scomprensibili, come figli di un giorno di nove, hanno sempre bisogno di qualcuno. E in più, avevano un uomo, i siciliani avevano un uomo candidato, quei Luigi Colaiani, figlio di Pompeo, che era riuscito a Cazzanostra. E sono loro due che si sfidano, mio padre e Luigi. E Luigi sarà il suo vice segretario, come veniva in luogo di una migliore tradizione, ci siamo combattuti fino a un attimo prima, adesso la battaglia è finita, dobbiamo combattere insieme per il partito che è diventato. In quel momento in Sicilia stava venendo un altro fatto, lo stavo venendo. Era in corso una forte contrapposizione tra i due blocchi, tra i paesi che aderivano al patto atlantico, la Nato, dei paesi che aderivano al patto di Garzano, dell'ex Unione Sud. E questa contrapposizione aveva determinato la decisione di installare missi da testata nucleare in tutta Europa. Una delle basi scelte che aderivano ospitare i missili nucleari erano su un ex aeroporto militare profondo sud-est della Sicilia, provincia di Nabusa, una zona straordinaria di agricoltura in serra di cui ancora oggi lo chiamiamo i frutti, come ancora Pachini. Pachini. E non solo, tutta la produzione autostruttitura di qualità italiana è un problema di ragione. mio padre partecipa quindi alla costruzione di un straordinario movimento pacifista che attraverserà tutta l'Europa e che vederà in ogni suo uno dei luoghi simbolo della protesta pacifista. Si svolgono dalla fine del 1980, all'inizio del 1981 decine di decine di manifestazioni in tutta Europa e anche in Italia e anche in Sicilia. Con cifre di oggi, se pensiamo alla capacità di comunicazione pacifista, in questo momento ci fanno stabilire 50, 100, 200 mila persone. In città, a Palermo, stiamo parlando di grandi mitropoli di abitanti. E mio padre lancia una raccolta di firme, di iniziativa popolare, per una credizione iniziativa popolare, per la sostruzione. Lui intuisce che il mio nodo era quello. Erano in corso le trattative sostanzialmente a Ginevra, tra le Stati Unite e l'Economia Sovietica. E quindi la forma che lui individuò, intuisce, era che intanto che sul corso le trattative sospendiamo l'installazione. perché può darsi che queste trattative vadano a buon fine e si decide di fare pace e quindi che gli mettevano a fare in sé. Un milione di figli della Sicilia, che all'epoca contava proprio più di 5 milioni di unità. Non gli fa mille qualcuno che aveva firmato. una straordinaria manifestazione attraversa Comi su il primo di aprile. Il primo maggio ci sarebbe stata la consueta mobilitazione a portella delle ginestri. Mio padre aveva deciso che il primo maggio non sarebbe andata a portella, sarebbe andata a conto. Non c'erano, perché in Trenta Pelle aveva ucciso insieme a una chiusura di salvo. Questa è la storia. Questa storia ci fa capire che mio padre attraversa una fase della storia di questo paese in cui, come avviene dappertutto, come è avvenuto sempre, si contrapponevano due forze. Le forze del proveresso e le forze della reazione. La storia non è fatta così. Io per studere un paese, queste circostanze, mi piace ripetere, come fu alla fine della rivoluzione francese. No. Ci fu il famoso congresso di Vienna, dove le grandi potenze americane decisero che si ritornava prima della rivoluzione francese. Perché nonostante, diciamo, la deriva confusione francese era stata portatrice di grandi istanze. E così. Poi, nel caso specifico, noi abbiamo molto bene, perché il congresso di Vienna sancì la vittoria dei grandi imperi sul Napoleone, ma prima la stagione dei nazionalismi, del risultamento, e così la dissoluzione del grande interno. La storia non si tratta. Perché se la vediamo nel corso dei secoli e non degli anni, dei decenni, da quando ci siamo, l'umanità ha fatto dei passi davanti straordinari, nonostante quelle forze che cercano, per mantenere le loro posizioni di griglieggio di contenere il progresso. E lo stesso era venuto in Italia, nella sua breve storia democratica e repubblicana, che avviene con oggi. Era quello che era avvenuto durante la riforma grattina, con i grandi proprietari terrieri aristocratici, alleati della mafia e delle forze reazionali, con gli ex monarchici, gli ex fascisti, i liberali e pezzi della democrazia cristiana, si erano composti al movimento dei lavoratori, dei contadini, per le comunità e persero. Qualche cosa non riuscirono a risparmiare, ma persero. E infatti, non esistono. Quelli lì non esistono più. Ma le istanze della conservazione e dell'imperazione non è che sono legate a un modello, tanto che c'è il barone ci siamo, quando non c'è più il barone non ci siamo. Si, diciamo, si rigenerano in altre istanze, sempre con questi intrecci. Economia, politiche, istituzioni e criminalità. Sempre così. Perché alla base di tutto questo c'è quella definizione di mio padre che la mafia è un fenomeno di classi dirigenti, non di classi subalterno, non di poveracci. Ma è il fenomeno delle classi dirigenti reazionali. Nel caso italiano delle classi dirigenti che hanno rifiutato il patto democratico, che loro con la Costituzione se ci si cordevano pulire il sedere, erano contenti. E quindi non riconoscono le riforme in questo Stato democratico. Non riconoscono il Parlamento come massimo momento e luogo di confronto democratico. Perché per questo sistema di potere l'avversario va eliminato fisicamente. Non ci si discute. Se il contrario è un interesse diritto. Ed è quello che succede in Sicilia in quegli anni. Perché tra la fine degli anni settanta e l'inizio degli anni ottanta il passaggio di un genere siciliano viene ucciso. Se non sterminio. Perché prima l'interessante Mattarella è passato ucciso al segretario provinciale della Comunicazia cristiana, insieme a lui lavorato per la svolta, magistrati, investigatori, giornalisti e poi continuano con la torre e con la chiesa sugli alcuni. Il capo del governo, il massimo rappresentante dello Stato nella regione, il prefetto della Borghese, il capo dell'opposizione, ordolatori, presidenti dei depunati, il suo Cesare Terranova di Intumani, nel suo rientro di magistratura per la straordinaria esperienza che l'hanno ucciso. Sono anni terribili. E la Sicilia diventa, diciamo, testimonianza che quella svolta era molto fondata. Negli anni ottanta si consumano un po' così. Finché il decennio si conclude e per una serie, diciamo, di fattori nazionali internazionali, lo scandalo Romani Unite, l'inchiesta che mi segue, spazza via tutta la classe dirigente del Paese. Tranne il Partito Comunista, perché ci hanno sfiorato solo gli strisci. Anche in quel caso noi, che vivevamo quella fase politica, pensiamo che quella sia una grande occasione per riuscire ad imprimere quella svolta che non era stata possibile imprimere negli anni anni 70 e all'inizio del mondo. Grande speranza. Qui si canta, inizia la Seconda Repubblica. la Spina, no? Andare avanti. Andare avanti. Non la terza. Non la terza. Non la terza. E stiamo lì. E stiamo lì. Stiamo lì. Stiamo lì. Chi di più? Chi di meno? E se no, siamo ancora lì. in quella fase di transizione, ancora non si è conclusa. Speriamo. 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 della from. Speriamo. 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 Dol shady, dec저. la seconda parte di questo libro mi avvio rapidamente la conclusione perché l'angelo ha confessato che ne ha letto solo una parte e poi adesso ci dimostra la seconda parte che dice che ho letto l'ha letto veramente facendo magari delle domande facendo dei suoi commenti così che voi anche se non avete letto avete delle curiosità datore che non siete dicendo qualsiasi attento sono qui a vostro disposizione bene in questi trent'anni sempre dal mio punto di vista personale, racconto, familiare l'elevità di mio padre l'ha assumo mia madre è sempre rosso che parla tutto il libro però a mio parere ma anche a parere di chi mia madre l'ha conosciuta lo fa una maniera di parla mia madre muore nel 2009 se mi fa nell'ultimo periodo tra questo smanto e quindi piano piano passa l'eredità io e mio fratello io o più di mio fratello la raccogliamo e arriviamo a quel famoso fattivo 2012 in cui io arrivo a trarre un po' le conclusioni di quel trent'anni mi pongo una serie di domande nel libro come mai come mai un uomo non in quanto tale per quello che rappresenta la sua storia il suo impegno politico viene rivendicato in particolare dal partito comunista e dai suoi diciamo dalle sue successive decennette che come un pezzo della della storia del partito e di quei partiti che si ma come mai a fianco di questa rivendicazione la trova e i punti nostri non si è andato oltre quello fino a oltre il punto dove il padre era affidato perché nella migliore tradizione dei mobili siciliani si è dissipato il patrimonio a Parigi con le ballerine lo champagne e i cavalli della corsa perché Libera lo dimostra che un seco di impegno sul fronte antimafia fa guadagnare ampi consenzi perché i partiti politici in particolare quelli che ne hanno dimenticato l'unità non hanno colto l'unità perché si è privilegiata l'azione giudiziale quando quando i magistrati forse dell'ordine sono impegni a dire che loro possono curare gli effetti ma non le cause e che la battaglia si vince se c'è di naturalità la battaglia hanno i soldi la battaglia woj lo scambio io cerco di dare delle risposte ne do più di una perché le motivazioni possono essere diverse non c'è capito fino in fondo ci sta? lui non lo capisce no? tutto che va in Pitagora non lo capisce magari per sfidare un po' poi non c'è la donna c'è la testata quindi può essere c'è stato un pezzo che non ha capito c'è stato un pezzo che non ha ritenuto priorità perché pensava che fosse sufficiente l'azione della magistratura delle forze dell'ordine l'azione repressiva perdendo in vista che la mafia non è un'organizzazione criminale è un'unica assigente e quindi un'azione veramente repressiva ti consente di portare a casa il killer ma chi con il killer fa gli affari chi è il killer ordina l'operazione sfugge da un'azione dell'interesse e poi c'è chi ha paura anche quello è complessibile c'è chi ha paura chi me lo fa parte sì è vero come dice il grande Manzoni se lo farà non ce l'hai in interlocutare però è anche vero che fa parte diciamo delle caratteristiche umane queste di misturare sulla base della propria coscienza e di coscienza il padre non è che non avesse parlare è perfettamente consapevole in uno dei suoi ultimi collochi con il suo vecchio compagno in partito Manuele Magaluso che disse chiaramente Emanuele adesso tocca a noi ed era la Pasqua o di giorni prima quell'aprile del 1982 prima di essere ucciso insieme a Rosario e poi ci sono quelli che hanno interesse questi elementi secondo me messi tutti insieme fanno sì che non sia stato possibile in Italia promuovere quell'azione vasta perché quel sistema di potere e i suoi interessi non li sconfiggiano da soli anche se siamo più bravi e migliori del mondo è necessaria una partecipazione ampia vasta alleanze anche con quelli che magari non ti convincono più di tanto ma che in un'azione del genere se ci stanno è bene che ci stiano i piersanti i piersanti di Mattarella i reina cioè i dirigenti di quella democrazia cristiana che mio padre per primo aveva attaccato il padre di piersanti di Bernardo un dirigente molto importante della democrazia cristiana con i legami non sempre dei limiti ma con che il santifato con reina fatica perché si rende contro che da solo non avrebbe mai e siccome non mi interessava il successo personale ancora la soddisfazione di poter dire io ci capo io sono io io ma il risultato e il risultato si poterla e si può conseguire solo il secondo rischio tutto questo tutto questo è lungo 120 pagine ed è via le vittorie dice un po' non pubblicate per l'edizione ne hanno 120 pagine un po' chi non è che c'è un pari di articoli interessanti di provare che possiamo ammigare c'è un carissimo amico Francesco Dornatore che da qualche anno si sta dedicando a un'opera di Tannica quella di raccogliere tutti gli scritti di mio padre non ha di parlare di Tannica la funghi quindi lo posso dire per essere pubblicato dall'Istituto Grammici Siciliano ha collezionato oltre 1500 articoli scritti interventi in serie di partito di nome messaggi preghi interviste questo diciamo anche per contraddire chi anche ultimamente ho sentito diceva la torre di nuovo d'azione non è che è stata di tanto tempo a perdere a scrivere le cose scrivere tanto il primo e quindi gli dicono Ciccio dammi una e lui me ne dà un centinaio li guardiamo insieme così alla fine ne estraiamo 11 li mando a Milano e allora noi ci fai pubblicare in chi è 11 e questo insomma porta la lunghezza da 120 a 500 pagine che ha una sua ragione ridà la parola a mio padre e poi questi articoli questa selezione si apre con il primo articolo che mio padre scrisse nel 1945 a 18 anni mi scrisse un articolo su gli studenti degli scritti professionali e la scuola in generale c'è questa forma diciamo di classismo e l'ultimo in questa breve selezione è il suo ultimo articolo che è uscito a costumo nel suo riciclio della rivista rinascita filmare per corso la famosa detenzione che raccolse un milione di figli e in mezzo ci sono altri nove che restituiscono un'immagine a tutto conto dell'imperi politico mio padre perché mio padre per poter dire ha torto tra virgolette è ricordato per il suo peggio la legge che porta il suo nome insieme a quella dell'organizzazione dell'interno di Gino Romione che è diciamo un caposato rivoluzionario che porta dalla mafia che introduce un creato di associazione dell'interno di stampo mafioso nel nostro coordinamento e l'armofiscare i preghi e l'immagine fatemuniale apro una parentesi anche qui come vedete si va avanti perché fino al giorno prima nei salotti valentiani pronunciare la parola mafia poteva suscitare viralità la mafia si è un carattere tipico dei giovani le giovani ragazze con le superanti sono mafiuse questo lo disse il ministro scello oppure una caratteristica antropologica dei siciliani il familismo valori un po' arcaici oppure la terza reazione poter essere quella che poi ritrovi a non un'altra ma non esistere questo era fino all'agosto del 1981 dal settembre data di approvazione della legge dopo l'estremo sacrificio di dare la chiesa non bastò uccidere la loro e di salvo per vedere la loro la legge bisogna come succede in Italia toccare il fondo prima di disegno e quindi il 3 settembre uccidono dalla chiesa fino all'agosto la situazione è natura dal settembre non si poteva più negare l'esistenza della mafia e non si poteva neanche vantare di essere mafiosi perché i figli li incavano è una rivoluzione è possibile la storia di mio padre e la storia di questo paese ci dimostra che non ci dobbiamo rassegurare che se l'ostacolo ci può apparire insomma non lo è dipende dalla nostra capacità e dagli strumenti che abbiamo per superare il nostro paese non esistono l'ostacolo che perché gli ostacoli umani li costruiscono gli esseri umani noi siamo umani quanto quelli che hanno costruito gli ostacoli è come i furti gli antifurti c'è un furto c'è l'antifurto e poi c'è il furto che se ne frega dall'antifurto e si va l'antifurto però in questo procedere per fortuna nel lungo che non si va sempre avanti bene perché per il mio padre la mafia era un ostacolo nel cammino dell'affermazione dei diritti democratici lui non era ossessionato dalla mafia lui era ossessionato dalle condizioni dei contativi pochi che voleva riscattare lui era ossessionato da quello statuto dell'autonomia che non si riusciva ad attuare lui era ossessionato da un modello di sviluppo calato dal nord che voleva la Sicilia a base di grandi impianti siderurgici esiziali per l'Oriente lui era per la pace perché la Sicilia non fosse una portaere ma fosse una piattaforma di cooperazione nel Mediterraneo e quegli articoli nel corso della sua breve esistenza tra il 1945 e il 1982 Gile si intuiscono tutto il nostro tempo nel dibattito con le altre forze politiche la scuola la lotta della terra contro il sacco di Valerbo le battaglie all'assegurare giurano siciliano per lo suono e poi non l'ultimo quella contro l'estallazione dei missili nucleari al Comiso è evidente a mio padre è evidente perché ogni volta si trova di mezzo la mafia cioè quelle classi dirigenti che dicevano ma ma trovi e quindi uno strumento atto a contrastare quelle classi dirigenti era il modo per mio padre per affermare pienamente i diritti costituzionali perché se ci pensate prima dove il sistema di potere governa in quei territori in quegli ambienti in quelle istanze dove il sistema di potere governa i diritti fondamentali vengono legati non si esprime liberamente il proprio diritto al voto perché come deve votare lo decide il capo politico della zona il diritto alla vota perché lavora solo chi vuole il boss politico o la filosofia il diritto alla libertà di espressione giornalistica e non ammazzare il diritto alla salute perché quei direttori delle aziende sanitarie che vengono nominati non certo per il bene nostro per la salute nostra ma per garantire che gli appalti vadano alle aziende controllate dal sistema di potere il diritto alla sicurezza è una battaglia quindi come lui diceva la battaglia ultima è una parte fondamentale della battaglia per la democrazia e questo che ancora diciamo non è compreso anche nella nostra organizzazione ma in generale nella cultura antimafia si pensa che abbiamo a che fare con quelli con le copole i baffetti la ruvara l'asino che mangiano un'esercizio e scrivono pizzi quello è la tiu quello è la fine dietro invece c'è la roba vera quella che non ci vuole mostrare e che invece mio padre ha dimostrato con il suo impegno nella nostra organizzazione grazie